Presentate questa interessante iniziativa che riguarda il commercio a Scafa, come favorire il commercio nel cuore e nel centro del paese. Vogliamo lanciare un messaggio che è vieni a Scafa, c'è tutto per te, perché nel nostro territorio abbiamo la presenza di circa 170 attività commerciali e artigianali che coprono tutti i servizi del commercio, quindi dalla ristorazione alla cura della persona, alla distribuzione alimentare, alla gastronomia, all'artigianato, all'abbigliamento. Cioè noi abbiamo un territorio che è al centro della Val Pescara e che negli anni ha cambiato vocazione, quindi non più una vocazione industriale per i cambiamenti che ci sono in atto in tutto il mondo, in tutto il sistema, quindi non più una vocazione industriale ma una vocazione di turismo e di commercio e quindi puntando alle aree verdi, ai servizi per tutti i cittadini e per tutti gli utenti che da sempre vengono a Scafa e vedono il nostro paese come un punto di riferimento dal punto di vista del commercio e dei servizi. Avete creato questo bel logo su questa Shopper e tra l'altro c'è anche un video. Sì, un video promozionale che valorizza le nostre attività a Scafa e dà importanza al nostro paese. Il logo è stato creato da un grafico dove ha raffigurato i colori del nostro lavino, la montagna della Maiella Gran Sasso, la F sta a specificare il mulino farnese del 600 e le cabine della Sama. Il video promozionale è strutturato in questo modo. Noi partiamo direttamente dal nostro bigliettino da visita che è il Parco Lavino, per poi addentrarci nel centro urbano.